Come c'è arrivata su quest'isola? Ho aperto una cartina geografica e ci ho messo il dito. Tutti si chiedono perché sia arrivata qui, sola e con tre figlie. Ci guardano, ci indicano. E in più è la morte civile. Almeno non sanno chi siamo. Io non ho paura di niente. In fondo, se avesse un po' di tempo, se lo chiederebbe anche lei, ma... Sta perdendo molto sangue. Ma io non sono veterinario. Per favore. Lei di tempo non ne ha. Sono il mio primo paziente. Deve ricostruire la sua vita, Emma. C'è qualcosa che a me non piace. Un uomo così bello. E mai un sorriso. Però me l'ha fatta. Su quest'isola, dove fascino e mistero sembrano incontrarsi. In prima visione, Vanessa è incontrada in Un'altra vita, prossimamente a Rai Uno.